Siamo colpiti dall'affluenza e dalla partecipazione a conferma del successo del modello del Festival di Limes e dei risultati a quale noi estendiamo come relatori i ringraziamenti per essere stati chiamati a dare un contributo e i complimenti per il successo di un modello che da anni sta avendo grandissimo successo. Questo panel si occuperà nell'ambito di un numero e di un'edizione speciale dedicata allo stato del mondo ed esordisce con naturalmente una domanda che tutti si fanno. E' una domanda che nel grande comico Roberto Benigni oltre vent'anni fa in uno sketch televisivo passato alla storia si chiedeva ma che c'è in Medio Oriente che da vent'anni, trent'anni bombardano? Ecco, ne sono passati venti, venticinque di anni, ancora bombardano e ancora noi ci riuniamo tentando di dare delle risposte che sono oggettivamente delle risposte molto difficili. Ovviamente nell'ambito dello stato del mondo è evidente che il Medio Oriente è quell'area che contribuisce maggiormente a instillare una sensazione di grandissimo pessimismo e quindi, se dovremmo dire perché, il mondo va male. E fa male in buona parte a causa di quello che succede in Medio Oriente. Qui io ho messo dei dati addirittura che si riguardano soltanto al mondo arabo e quindi che è una parte più ristretta del Medio Oriente, perché il Medio Oriente non include solo il mondo arabo. Sono dati di due anni fa, ma credo che vi diano la fotografia inequivocabile della gravità di quello che accade in questa regione e ci fa prendere con mano tangibile l'entità del dramma della regione. Ora, chiamato così a moderare, ma allo stesso tempo a fare un intervento e nell'umile tentativo di dare una risposta a questa domanda, io, si potrebbero dare tantissime risposte, ma ho pensato che forse una rappresentazione plastica, cioè una mappa potesse essere quello che meglio dà una risposta. Al quesito che tutti ci stiamo ponendo e al quesito al quale abbiamo enormi difficoltà a dare una risposta. Questa è una mappa che il direttore della Rosneft, una delle principali compagnie petrolifere russe, ha utilizzato l'anno scorso a Verona in un incontro riservato con una serie di persone. E ovviamente è una sua visione del Medio Oriente, del direttore della Rosneft, ma evidenzia due grandi regioni che consumano energia, abbiamo appena sentito l'amministratore delegato dell'ENI, e una regione che invece la produce, che è nel mezzo. E se voi guardate anche soltanto graficamente questa mappa, vedete che il Medio Oriente è proprio lì, stretto in mezzo a queste due macro aree di consumatori, e naturalmente viene immediatamente in mente che in quella strozzatura, in quella terra di mezzo, in quel crocevia tra tre continenti, inevitabilmente doveva accadere, dovevano determinarsi tutta una serie di eventi con i quali noi ci stiamo confrontando da tempo. Ora, stamattina abbiamo avuto George Friedman, grande analista americano, che ci ha parlato o ha tentato di dare una risposta che cosa vogliono gli Stati Uniti. E non ci è riuscito a confessare, in un certo senso, la difficoltà nel dare una risposta a tutto questo. E nell'ambito di una discussione con ospiti cinesi, ospiti russi, è emerso questo grande discorso delle rotte marittime, della One Belt, One Road, del grande progetto cinese di una grande massa eurasiatica, e a me è venuto in mente che in effetti già questo possa, come dire, essere una bozza di risposta. Fino ad oggi, e tuttora ci confrontiamo con una egemonia statunitense e occidentale nel mondo, questa egemonia ha un connotato negativo. Chi è filoamericano la chiama leadership. Quindi, leadership ha un connotato positivo, ma per tantissima gente, forse la stragrande maggioranza del mondo, viene declinata come egemonia. Ma non importa, questa è soltanto una questione semantica. E naturalmente è stato evidenziato che gran parte di questo potere o egemonia deriva anche dal controllo dei mari. La grande marina, prima britannica e poi americana. Adesso abbiamo un grande progetto cinese, in cui c'è un'associazione russa, che tende ad arrivare all'Europa, che tenta di avvalersi di alcuni paesi che sono anche come Iran e Turchia, e questo progetto vuole passare, o meglio, a una componente navale, ma principalmente è un progetto terrestre. Creare tutta una serie di assi di comunicazione infrastrutturali, ferroviari, energetici, che colleghino l'Asia e l'Europa in un grande massa eurasiatica. E allora, se dobbiamo andare a vedere un ventremolle di tutto questo progetto, anche qui vediamo che c'è una terra di mezzo che si chiama Medio Oriente, e questo potrebbe essere un altro elemento o un altro indizio che noi potremmo, come dire, perseguire, nello stabilire se la risposta alla domanda debba essere, come dire, ricercata, anche in questa peculiale collocazione che ha il Medio Oriente in tutto questo. Io credo che, personalmente, la risposta più che si avvicina dal mio modestissimo punto di vista è che il Medio Oriente è quel luogo del mondo in cui oggi si percepisce più nettamente la crisi o forse la fine dell'egemonia statunitense sul pianeta. in cui si tocca con mano la difficoltà degli Stati Uniti di determinare gli esiti sul terreno. E 17 anni di guerra in Afghanistan, la guerra in Iraq che si conclude a coda di pesce. E tutto questo è in Medio Oriente che si tocca con mano questa difficoltà, nel non riuscire più ad imporre quest'ordine. Ora, io non sono assolutamente certo di questo, nessuno lo è. Ricordo nel 1987 un grande saggio del professore Paul Kennedy, in cui era stata già predetta una fine dell'egemonia statunitense, il famoso libro Ascese e declino delle grandi potenze. Quindi, già tante altre volte gli Stati Uniti sono stati dati per indeclino e poi... Però quello che stiamo vedendo in questo periodo è un inedito allineamento russo, cinese, iraniano, per certi versi anche turco, che sembrano tutti avere un connotato comune. si sono stufati degli Stati Uniti egemoni del mondo. Stamattina, sempre Friedman, ci ha invitato ad avere pazienza ed essere indulgenti. Ha detto, cercate di capirci, noi siamo sì un impero, ma siamo molto giovani. Sentire Friedman... Gli Stati Uniti non sono nati il 4 luglio del 1776, ma il 5 maggio del 2004. Cioè, gli Stati Uniti, come lui ha detto, hanno 14 anni, sono un adolescente, un adolescente in tempesta ormonale, che quindi, per chi ha dei figli, può perfettamente capire cosa accade a un adolescente in tempesta ormonale. Dà un po' fastidio e irrequieto. E capita talvolta, almeno venendo io da Roma, ogni tanto, quando qualcuno si comporta così, a Roma poi c'è qualcuno che dice, non mi hai rotto veramente. E essenzialmente si sta determinando questo gruppo di Stati, che non è che hanno un filo condottore come me, se non il fatto di contestare una certa visione del mondo e una certa egemonia. Stamattina Suslov, il nostro ospite russo, ha detto, in un modo molto tranchant, stiamo avvicinando la fine di 500 anni di egemonia occidentale. Fermandoci al Medio Oriente sempre, perché questo è il nostro luogo di esame, se noi dovessimo andare a vedere qual è stato l'ultimo successo diplomatico statunitense nella regione, escludiamo l'accordo sul nucleare di tre anni fa, noi per avere un vero e proprio significativo successo diplomatico dobbiamo tornare al 1978, con un presidente, 78-79, un presidente criticatissimo che si chiamava Carter, la pace di Camp David. Da allora in poi tutta una serie di tentativi andati male, finiti male e gestiti peggio, per poi arrivare al 2015, in cui ci è voluta appunto Obama e la sua perseveranza di Kerry per arrivare all'accordo con l'Iran. E quindi c'è questa tentazione per noi europei, per noi di tendenza americana a risolvere i problemi in modo muscolare. Obama, criticatissimo anche lui, io sono uno di quelli che lo critica meno, disse una volta una frase molto importante in cui nel suo tentativo di tentare di adeguare non il popolo americano, ma l'establishment americano. Obama disse siccome noi siamo quelli che hanno il martello migliore, non significa che ogni problema che ci si paventa sia un chiodo e lo dobbiamo schiacciare. era un modo molto elegante a fine di dire ma insomma non è che noi possiamo risolvere ogni problema con i bombardieri, con i droni, perché questa non è una strategia. Cioè è come se, insomma, è come se gli Stati Uniti il motto cartesiano l'avessero comunque completamente cambiato da penso quindi esisto a bombardo quindi esisto. E questa è una cosa che determina ovviamente un disagio e un imbarazzo. Oggi abbiamo una situazione nel Medio Oriente dove prima eravamo tutti pronti a guardare che cosa diceva Washington, adesso ci stiamo, come dire, rivolgendo a una situazione in cui guardiamo alla Russia, guardiamo alla Turchia, guardiamo all'Iran. E questo è un cambiamento non da poco. Ora, e questo rapidamente anche per lasciare spazio agli altri, che fisionomia sta assumendo il Medio Oriente? Il Medio Oriente sta assumendo una fisionomia che io ho sempre considerato in tre fasce da poco. Questa è una bellissima cartina che ovviamente ha fatto la redazione di Limes che io ho sfigurato ignobilmente tendato di tracciare alcune righe per evidenziare le tre fasce che il Medio Oriente in cui secondo me si sta disponendo. una fascia turca neottomana nord in cui ci sono gli interessi della Turchia una fascia centrale che è quella animata dall'Iran dall'Iraq cita dalla Siria di Assad dal Libano di Hezbollah che è il gruppo di paesi che si oppone all'egemonia statunitense e una fascia sud composta da Egitto da un inedito allinamento in cui c'è l'Egitto l'Arabia Saudita i paesi del Golfo e Israele preoccupato dell'Iran e dei suoi compagni di merenda che invece vi si oppone e quindi è lungo questi tre assi questi assi orizzontali che le confronto geopolitico e le dinamiche politiche del Medio Oriente si vanno definendo naturalmente si stanno determinando due assi che vengono chiamati uno è l'asse della resistenza appunto quello che ho appena descritto l'Iran l'Iraq ovviamente la Siria del Saad e Sbollah e sotto c'è un asse che così convenzionalmente lo chiamiamo asse della restaurazione cercare di impedire che i rivoluzionari quindi i sciti o chi per loro cambino la fisionomia della regione come si sono messi in mente di fare sin dalla rivoluzione iraniana nel 1979 e Russia e Stati Uniti che si trovano a confrontarsi con questa situazione in cui talvolta si ha l'impressione che l'asse della resistenza quello centrale sia in qualche modo ci sia un leading from behind da parte della Russia in alcune casi mentre dall'altra parte l'asse della restaurazione Arabia Saudita Egitto Israele Stati Uniti certe volte non si capisce effettivamente chi sia la guida certe volte se tutti pensano che sia gli Stati Uniti a guidare l'asse molto spesso poi arrivano tutta una serie di informazioni giornalistiche in cui invece c'è un'azione di lobby verso Washington e sembra che Washington invece di guidare sia guidata o sia trascinata con tutta una serie di dibattiti interni all'amministrazione americana in cui praticamente non si riesce a capire come stamattina diceva il Friedman ma qual è la politica americana nella regione istintivamente Trump nell'essere un po' così talvolta sembra rozzo ha detto ha twittato una volta abbiamo speso 7 mila miliardi di dollari in Medio Oriente per non arrivare alcun risultato quindi istintivamente che finora l'avventura americana in Medio Oriente si sia rivelata fallimentare e questa sensazione lui la ha ma però si scontra con un establishment statunitense che continua a ragionare in un modo diverso in un modo in cui ovviamente l'Iran è visto come il demonio da abbattere l'accordo sul nucleare faticosamente raggiunto da Obama deve essere cestinato perché è un accordo che non si occupa del comportamento iraniano nella regione l'accordo non aveva mai avuto questa finalità e se non ha coperto questi aspetti del comportamento iraniano è principalmente perché gli Stati Uniti quando si iniziano i negoziati disse discutiamo soltanto di nucleare gli iraniani presentarono una proposta famosa nella primavera del 2003 erano pronti a discutere di tutto gli americani dell'epoca alcuni di quelli sono quelli che oggi consigliano Trump non ne vogliamo neanche sapere avevano appena vinto in Iraq quindi si sentivano con il vento in poppa e quindi da questo punto di vista non erano disponibili a a prendere in esame questa possibilità ecco questo è lo scenario in cui noi ci stiamo confrontando in cui oltre ai problemi geopolitici ci sono anche dei problemi ci tengo a sottolinearlo culturali di comunicazione di tolleranza di mutuo reciproco riconoscimento qualche giorno fa io ho assistito allibito dopo che c'era stato l'attacco dei gas il presunto attacco chimico l'attacco chimico in Siria l'ex capo della Royal Navy intervistato dalla BBC parlo della BBC quello che dovrebbe essere come dire il faro di tutti i giornalisti in termini di come dire deontologia professionale e questo ammiraglio si era permesso di esprimere un qualche dubbio tecnico sulla possibilità che ci fosse stato veramente un attacco chimico o che l'attacco fosse stato condotto secondo certe modalità il moderatore della BBC gli dice ma scusi ma lei si rende conto di quello che sta dicendo noi stiamo conducendo una guerra informativa contro la Russia e contro la Siria e lei viene qui a dire queste cose io se fossi stato il capo della BBC il moderatore l'avrei licenziato seduta stante perché BBC deve fare informazione gli organi di Sampa non devono prendere parte alle guerre informative oggi purtroppo tranne un'isola felice come questo un dibattito sereno e civile su queste questioni non è più possibile se c'è qualcuno che negli Stati Uniti inizia a dubitare in un modo così scientifico oggettivo accademico della circostanza che la Russia abbia inquinato le elezioni presidenziali americane viene immediatamente etichettato come un qualcuno al servizio del Cremlino qui c'è il New York Times di oggi banished by Israel for thinking differently bandito da Israele per aver pensato in modo differente non stiamo parlando di un fascino roso stiamo parlando di una professoressa della Columbia University di New York che doveva andare in Israele a fare un dibattito e che è stata detenuta per 14 ore all'aeroporto di Tel Aviv e poi rispedita indietro perché le sue opinioni sulla questione israelo-palestinese non erano gradite capite che la situazione veramente sta sfuggendo di mano siamo arrivati a una situazione in cui mi dispiace doverlo dire me ne sono occupato tantissimi anni con tantissimi amici israeliani discutere la questione israelo-palestinese e manifestare una critica anche pacata su alcuni comportamenti delle forze armate israeliane espone la persona al rischio di essere accusato di antisemitismo e l'antisemitismo è una cosa così importante così seria così grave con un'implicazione storica così pregnante importante che non può essere utilizzata un tanto al chilo in ogni dibattito in ogni situazione è una cosa seria va usata seriamente e non annegata in un dibattito in cui rischia di essere in alcune circostanze addirittura ne viene sminuita l'importanza e il valore che invece è enorme e dovrebbe essere tutelato ultimo e chiudo c'è quando ho detto prima un problema culturale è un problema culturale che noi occidentali cominciamo ad avvertire ma non è un problema culturale che è nato oggi temo sia connaturato al nostro DNA è qualcosa che risale al quinto secolo avanti Cristo ai greci a Eschilo alla tragedia greca i persiani c'è la sensazione che noi occidentali che siamo sicuramente il miglior modello di sviluppo il miglior modello di esistenza finora prodotto sulla faccia della terra abbiamo bisogno un bisogno patologico di un nemico che ci aiuti è finito il mio tempo che ci aiuti a rafforzarci nella nostra convinzione di essere i migliori l'asse del male l'altro l'oriente il barbaro sembra che non siamo sicuri di noi stessi e quindi andiamo a cercare ovunque un nemico che è talmente in alcuni casi esageratamente descritto come un qualcuno che è così lontano da noi che ci aiuta a dire eccoci noi siamo così siamo migliori e siamo sempre alla ricerca di questo rafforzativo della nostra cultura e della nostra identità ed è un qualche cosa che insomma ci siamo cresciuti con questa cultura almeno la mia generazione i film di Hollywood che cosa è stata Hollywood per decenni che cosa ci ha rappresentato Hollywood noi arrivano i nostri i cowboy noi siamo i buoni arrivano gli indiani i cattivi gli indiani adesso sono quelli dell'oriente o l'arabo o il musulmano o chiunque ed è un qualche cosa in cui la tendenza che ha dimostriamo l'80% dei film che vengono prodotti ci portano a pensare che i problemi si risolvono con una pistola sparando e molta gente la distinzione tra la fiction e la realtà non la fa gli arabi vengono rimproverati di non distinguere tra realtà e sogno ho il timore che certe volte questa cosa sta accadendo anche da noi ecco quindi che c'è un clima avvelenato che andrebbe svelenito abbiamo dei prossimi appuntamenti nel mese di maggio in cui ci sarà la decisione Trump sull'Iran domani ci saranno le elezioni in Libano poi ci saranno le elezioni in Iraq e poi Trump dovrà prendere questa decisione dovrebbe teoricamente presentare un nuovo progetto di pace israelo-palestinese che tutti temono possa essere un diktat e quindi ci saranno probabilmente ulteriori tensioni e quindi noi con gli americani abbiamo discusso per anni e dopodiché soltanto qualche giorno fa io mi resi conto perché gli americani non riescono ad avere una posizione di critica contro Israele lo capisco la comunità di valori la visione condivisa la democrazia tutto vero ma in fin dei conti per un americano andare a contestare agli israeliani la questione palestinese è come negare la propria storia perché la storia americana che cosa è stata i nativi americani che sono stati messi e confinati nelle riserve e poi c'è stato il progresso e diciamo che le enclave palestinesi sono delle riserve a tutti gli effetti ovviamente ci sono due situazioni distinte c'è tutto un percorso storico c'è stato un olocausto c'è un diritto ancestrale degli ebrei a quella terra però la modalità è la stessa io penso di aver sporato sicuramente il mio tempo e quindi vi ringrazio per l'attenzione e coglierei l'occasione per dare la parola a Marco Ansaldo giornalista grande esperto di Turchia che ci aiuterà a capire avrà un compito altrettanto difficile di quello che ha avuto George Friedman stamattina nel cercare di spiegarci Trump e cosa vuole Trump nel suo caso trattandosi di Turchia e quindi della fascia turca del Medio Oriente cercherà di spiegarci che cosa vuole Erdogan grazie grazie a Marco Carnelos e alla sua introduzione molto stimolante dal mio punto di vista la Turchia è uno dei responsabili di questo innalzamento dell'attenzione che viviamo in Medio Oriente io vivo in un paese dove da pochi giorni è stato elevato per la settima volta lo stato d'emergenza dopo il golpe del il tentato golpe del 2016 contro Recep Tayyip Erdogan e quindi la tensione in questo paese si avverte ricordo gli anni 90 la cavalcata economica anche della Turchia nel 2000 e oggi invece si vive un'atmosfera completamente diversa basta vedere andare per le strade a Istanbul per non parlare ad Ankara o nello sud-est del paese e vedere le facce dei turchi facce che hanno paura c'è un'atmosfera cambiata naturalmente il paese continua a essere meraviglioso bellissimo adesso si aprirà la stagione turistica sperando che molti turisti vadano ma la paura la tensione è forte si sente e anche perché è un paese dove ci sono in atto due guerre una nel sud-est dell'Anatolia il cosiddetto Kurdistan è una guerra ormai endemica dura dal 1984 tra le forze armate di Ankara e il partito dei lavoratori del Kurdistan fondato da Abdullah Ocalan il PKK ed è una guerra ciclica è una guerra che fa morti ogni giorno una guerra di bassa intensità ma basta aprire ogni giorno Huriyet o Miliet e si vedono i funerali dei cosiddetti martiri cioè i soldati turchi non si parla mai dei combattenti kurdi uccisi eppure sono ogni giorno c'è la conta per quanto si possa lavorare in maniera indipendente nel sud-est dell'Anatolia dell'una e dell'altra parte ed è una guerra che nel corso degli anni intanto ha fatto 40.000 morti ma è una guerra che si è tentati anche di fermare di stoppare soltanto pochissimi anni fa ci fu non soltanto una tregua ma ci fu un tentativo di pace tra le due parti e però a un certo punto Erdogan decise comunque di continuare a bombardare e la guerra è ripresa e questa è la guerra interna che vive la Turchia poi c'è la parte a sud la guerra nuova ricordiamo questa operazione che è scattata il 20 gennaio con questo nome singolare Ramoscello d'Ulivo e nel giro di due mesi le forze armate turche sono entrate in Siria e hanno preso la città di Afrin la città difesa dai curdi ormai i turchi sono stabili in questa parte nord della Siria e il loro intendimento è quello di proseguire di andare avanti fino all'Eufrate oltre fino alla città di Mambì che è una città molto importante perché anche quella difesa dai curdi ma lì ci può essere una questione una frizione perché c'è una base americana e allora i turchi hanno già chiesto agli americani di sloggiare da questa base ecco le differenze poi che ci sono in occidente già all'interno di alleati della Nato e quindi capite che un paese che vive due guerre attualmente è un paese che si coniuga già tutto nel nostro nel nostro titolo di oggi perché le guerre non finiscono in Medio Oriente poi c'è un paese che ha delle tensioni politiche molto forti intanto vi devo dire che possiamo criticare molto Erdogan da tanti punti di vista ma sicuramente non da quello di essere un animale dal fiuto politico di primissimo livello io l'ho visto in azione diverse volte ma ricordiamo tutti a gennaio scorso quando ci fu la questione dello spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme come Erdogan che nonostante tutto non era esattamente in buoni rapporti con Papa Francesco alzato il telefono e si è fatto ricevere in Vaticano facendosi paladino del mondo musulmano su questo problema e possiamo parlarne male ma sicuramente come facciamo come siamo molto critici sui giornali fin quando ci terranno lì ma sicuramente è un leader che ha cambiato il volto della Turchia i turchi vivevano fino agli anni 90 almeno quando sono arrivato io come siriani oggi vivono come spagnoli è cambiato proprio sì l'atmosfera del paese ma anche il modo di vivere adesso c'è una questione diversa adesso l'economia va male ecco perché Erdogan ha chiamato elezioni e da grande animale politico che cosa ha fatto soltanto pochi giorni fa ha deciso che le elezioni del 2019 che erano tre legislative presidenziali amministrative forse erano un po' troppo lontane e rischiose per lui che cosa ha fatto ha convocato immediatamente elezioni che si terranno fra un mese e mezzo il 24 giugno che sono elezioni legislative che andranno a lui e presidenziali su cui forse c'è da disputare e anche su questo caso c'è un esempio emblematico che posso farvi l'opposizione pensava a una mossa straordinaria cioè quella di candidare tra le proprie file tra le proprie fila Abdullah Gül Abdullah Gül è il predecessore come presidente della Repubblica di Recep Tayyip Erdogan ha fondato con lui il partito conservatore di ispirazione religiosa però essendo un moderato ha manifestato negli ultimi anni molti dissapori il suo malcontento per questa deriva autoritaria di quello che una volta considerava suo fratello come si sono chiamati più volte pubblicamente ebbene l'altro giorno che cosa è successo? che Ibrahim Kalin il che Marco Carnè lo sconosce che è il consigliere per la comunicazione uomo molto importante di Erdogan è andato insieme al capo di stato maggiore Ulusi Akar quindi numero uno delle forze armate a casa di Abdullah Gül si sono parlati nelle segrete stanze non si sa che cosa sono detti ma il giorno dopo Abdullah Gül che doveva annunciare alla stampa qualche cosa di molto importante esce fuori non accetta domande e dice signori non ci sono le condizioni per me di candidarmi non si è trovato un consenso nell'opposizione sul mio nome io non mi candido grazie ora voi pensate di stare in un paese dove arriva il capo delle forze armate e va da il probabile candidato dell'opposizione e gli dice qualche cosa noi sappiamo degli avvertimenti che arrivano dai militari sappiamo di un paese che ha conosciuto molti golpi negli ultimi decenni della storia eppure questa mossa sarebbe stata straordinaria un cavallo di troia nel campo del partito islamico che spacca il partito e mette in difficoltà seriamente Erdogan che invece avrà candidati presidenziali suoi sfidanti più agevoli da affrontare e quindi pensate anche a un paese dove i militari che per costituzione sono i guardiani laici scusate i guardiani della costituzione per costituzione sono i guardiani della laicità dello Stato si trasformano oggi in guardiani del partito conservatore islamico al potere e in questo passaggio di in questa ambiguità questo passaggio dei militari di consegne da se stessi a se stessi ma in modo davvero emblematico davvero sorprendente dobbiamo chiederci anche la Turchia oggi dove va e che cos'è e che cosa vuole fare e dove vuole andare perché la Turchia oggi noi non sappiamo da che parte stia allora formalmente la Turchia è all'interno della Nato è stato un nostro fin dal 1952 è stato un alleato formidabile il bastione nel fianco sud-est della Nato che doveva contenere il pericolo che arrivava da quella parte oggi la Turchia fa accordi intanto diplomatici con la Russia di Putin e l'Iran di Rouhani accordi diplomatici sulla Siria che cercano bene o male forse anche giustamente dal loro punto di vista di oltrepassare di bypassare il fatto di non riuscire ad arrivare a una pace in Siria ma non c'è dubbio che sarà una Pax firmata da Mosca da Teheran e da Ancara quello che si può profilare in questa nuova triplice alleanza che Erdogan Rouhani e Putin hanno siglato recentemente a Istanbul il mese scorso e poi ci sono accordi di tipo militare ancora più problematici oggi Erdogan acquista missili da Putin missili che non sono compatibili tecnicamente con il sistema dell'Alleanza Atlantica e quindi i tecnici russi dovranno andare in Turchia in Turchia per sistemare e rendere compatibili questi missili voi capite ecco qui parlavamo prima di questioni epiche un altro cavallo di Troia ma forse a questo punto di vista ci tocca molto un cavallo di Troia che significa la Russia che entra direttamente nel campo dell'Alleanza Atlantica e quindi ecco perché è lecito chiederci dove va la Turchia che cosa è oggi un quarto e ultimo elemento che vorrei evidenziare è al tempo stesso l'isolamento occidentale della Turchia e non è indifferente allora tante volte qui a Genova in passato abbiamo parlato e proprio sotto il cappello di Limes della teoria della profondità strategica tirata fuori dal consigliere di Erdogan Ahmed Davutoglu poi diventato suo ministro degli esteri poi diventato suo primo ministro io ricordo durante il periodo delle elezioni ad Ancara altrove le facce di Erdogan e Davutoglu insieme poi a un certo punto Davutoglu non ha più funzionato oggi è sparito completamente ma allora il suo pensiero era molto in voga ed era quello della cosiddetta profondità strategica della Turchia ma soprattutto quella la teoria dello zero problemi con i vicini è una teoria che ha fallito completamente oggi la Turchia ha non solo problemi con i suoi confinanti Grecia Bulgaria Iran Iraq Siria Cipro ma nella fascia esterna ha problemi con tutti guardiamo al caso di Israele che veniva accennato prima c'era una alleanza formidabile negli anni 90 un asse militare straordinario tra Israele e Turchia completamente saltato oggi Benjamin Netanyahu e Recep David Perdoan si litigano quasi tutti i giorni sulla questione della striscia di Gaza sei un terrorista sei un macellaio e l'alleanza con Israele ovviamente oggi è saltata non solo questo ma guardiamo l'Europa nel 2005 la Turchia è diventato paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea e poi vediamo che fine hanno fatto i negoziati molta responsabilità è stata sicuramente dei grandi paesi europei molta responsabilità è stata delle forze estreme in Turchia ma oggi vediamo che i negoziati sono bloccati è stato chiuso un solo capitolo negoziale su 33 e il sogno della Turchia di entrare in Europa almeno sotto questa amministrazione diventa davvero molto complicato e vediamo anche il problema che abbiamo sulla questione che ci tocca da vicino dei migranti io ho visto il mese scorso a Varna in Bulgaria sul Mar Nero la 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 riunione l'incontro fra i leader europei Juncker e Tusk e dall'altra parte Erdogan con il rilascio il via libera definitivo dei 3 miliardi più 3 per i profughi questione di cui la Turchia si sta occupando in maniera molto seria a sud e le facce di Tusk e di Juncker erano diciamo uno più duro l'altro più consapevole di poter aprire comunque la Turchia dicendo ma no ha detto Juncker noi siamo favorevoli al vostro ingresso ne riparliamo e Erdogan che prendeva finalmente aveva il via libera per prendere quei 6 miliardi di euro che ogni paese comunitario gli darà ha detto noi speriamo finalmente di riuscire ad appianare le nostre divergenze e di non avere più problemi in futuro cerchiamo di avere basi nuove con l'Europa sono passati tre giorni e gli attacchi di Erdogan nei confronti dell'Europa sono ricominciati gli Stati Uniti che ricordavamo prima c'era una grande speranza da parte di Ankara che con il cambiamento dell'amministrazione da quella Obama a quella Trump ci potesse essere una delle agevolazioni ci potesse essere finalmente una Turchia che potesse parlare a tu per tu con l'America bene non avere soltanto problemi è stata una disillusione totale oggi Erdogan ha molto a che dire contro gli Stati Uniti perché non rilasciano non estradano Fethullah Gulen che come voi sapete è l'imam accusato da Ankara di aver organizzato il golpe del 2016 e gli Stati Uniti sono uno stato di diritto e ovviamente di fronte a prove che non si manifestano non consegnano Gulen che si trova rifugiato in Pennsylvania ma soprattutto per quanto riguarda la Siria il litigio riguarda i kurdi gli Stati Uniti nell'ambito dell'alleanza occidentale ovviamente tengono al fatto che i kurdi siano gli alleati su cui contare nel contenere il pericolo che arriva dal cosiddetto sedicente stato islamico l'ISIS opinione diversa invece la Turchia di Erdogan che combatte quotidianamente i kurdi e oggi c'è consenso elettorale su questo perché Erdogan va a elezioni proprio per capitalizzare il consenso che ha nel paese nel combattere non i kurdi ma i terroristi come li chiamano consenso che c'è all'interno del suo partito conservatore islamico all'interno dell'alleato del partito che sono il movimento di azione nazionalista che sono i vecchi lupi grigi dell'attentato a Giovanni Paolo II li ricordiamo e consenso che arriva anche nell'altro schieramento politico il partito repubblicano se oggi si parla con un seguace un elettore del partito repubblicano dice il presidente ha ragione perché quelli sono terroristi e vanno combattuti quindi gli unici a difendere i kurdi sono gli esponenti del partito filocurdo i cui leader oggi sono quasi tutti in prigione per chiudere l'argomento e dell'isolamento della Turchia problemi ci sono anche all'interno dei paesi arabi oggi i paesi arabi si schierano da qualche tempo contro il Qatar accusato di finanziare il terrorismo la Turchia si è alleata con il Qatar Qatar che viene escluso addirittura dagli altri paesi Arabia Saudita Oman Emirati Arabi Uniti dalle manifestazioni sportive che vengono organizzate il Qatar sarà il prossimo organizzatore dei mondiali del 2022 ecco quindi perché parlo di isolamento occidentale e non solo della Turchia nel mondo voglio andare alla conclusione a questo punto è chiaro che sulla Siria Iran Russia e Turchia pensano di arrivare a una spartizione del paese con la Turchia che prenderà la fascia nord da Aleppo fino alle Ufrate controllandola direttamente dalle proprie forze armate insieme all'esercito libero siriano loro alleato chi sarà a pagare tutto questo nel breve medio termine saranno i kurdi i kurdi che ci hanno difeso a Raqqa che ci hanno difeso soprattutto a Kobane contro la possibile avanzata del sedicente stato islamico e non hanno copertura aerea di nessuno non hanno le corazzate di Assad non hanno il fanatismo dei jihadisti sono quindi l'anello più debole all'interno della Siria ecco io credo che e concludo che il silenzio occidentale nei confronti dei kurdi sia molto colpevole perché oggi pagheranno loro io temo che un domani a pagare di questa guerra di queste guerre sarà poi davvero l'Occidente grazie grazie ringrazio Marco Ansaldo che ha brillantemente aggiunto tutta una serie di spunti di riflessione ponendo l'accento su un paese che ha un ruolo critico e che nel Medio Oriente che stiamo osservando in alcune circostanze potrebbe addirittura rappresentare un ago della bilancia nell'ambito delle sue intese a geometria variabile che potrebbe decidere di fare nei prossimi mesi o nei prossimi anni con il Qatar sta appendendo dalla parte del Qatar in un'altra circostanza ha un costante raccordo con Russia e Iran quindi chiaramente la politica di un paese che si sta lasciando tutte le strade aperte e che è alla ricerca di una collocazione vorrei adesso dare l'opportunità a un altro studioso giornalista sul campo Lorenzo Trombetta che è a Beirut ma copre tutta la regione in un modo brillante da tanto tempo e che ha seguito nel corso del tempo il più sanguinoso conflitto che stiamo sperimentando nella regione che è quello siriano e che comunque non darà soltanto una visione di quello che sta accadendo in Siria perché è il principale teatro di confronto ma cercherà di porlo in una prospettiva in un contesto molto più ampio teso sempre a dare una possibile risposta al quesito di questo panel perché le guerre non finiscono mai Lorenzo perché non finiscono mai sposto lì che c'è la presentazione ah sì sì bene buonasera a tutti grazie a Limes a Palazzo Tocale e alle persone che mi sono accanto questa domanda mi ha stimolato dei pensieri che vanno al di là della questione siriana e la questione siriana di solito mi accompagna perché occupandomi di Siria da vent'anni quando poi è scoppiato il confronto anche sanguinoso da molti anni sono stato chiamato in causa più volte e su Limes Online sul cartaccio di Limes seguo da vicino la questione siriana ma anche perché vivendo in Libano sono abituato a non avere molte certezze il Libano è un paese che soltanto i neofiti pensano di aver capito la prima settimana che si sta in Libano si ha l'idea di essere in un paese molto complicato conosco persone anche io sono caduto nella trappola dopo un anno di pensare di aver capito gran parte del paese ma invece superata questa collina di ottimismo poi ci si avvia in un percorso verso l'ignoto per cui più si sta in questo paese più in qualche modo si riconosce di aver capito molto poco e quindi è un continuo tastare le pareti in una stanza buia e quindi è un esercizio quello di mettere in discussione certe categorie come Medio Oriente come Maio sempre che sono costretto a fare ogni giorno e che il racconto della questione siriana mi ha abituato a fare ecco perché oggi non racconterò in modo geopolitico in modo freddo quello che sta avvenendo in Siria a che punto siamo con la questione siriana i miei colleghi lo hanno già in qualche scenario anticipato ma proverò a sparigliare qualche carta e usando gli strumenti che più mi sono a cuore la cronologia quindi la storia e la geografia se noi prendiamo una cronologia degli ultimi 70 anni effettivamente la regione che possiamo definire grossomodo con Medio Oriente effettivamente è una regione dove le guerre a vari livelli sono sempre presenti ma 70 anni sono pochi nella storia non soltanto del Medio Oriente che non è un'eccezione non possiamo fare orientalismo nel Mediterraneo orientale che è il Mediterraneo nostro 70 anni è una porzione anche piccola e vivendo in quell'area sono abituato a considerare la storia i meccanismi della storia come frutto di un processo prima di tutto ho cominciato a chiedermi ma cos'è questo Medio Oriente e in maniera molto banale senza aver fatto corsi di storia specifici su questo chiunque oggi può rendersi conto che la definizione di Medio Oriente è una definizione nanzitutto moderna che nasce in un determinato periodo storico nasce a metà del 1800 quindi siamo in un contesto estremamente vicino a noi perché appunto non siamo qui a fare attualità siamo qui in un contesto di approfondimento e quando nel 1850 l'impero britannico per ragioni politico-militare comunque crea questo termine parliamo dell'altro ieri ed è una regione che è stata descritta come Medio Oriente da vari attori e sempre la definizione di Medio Oriente ha un uso politico per esempio l'impero britannico che cercava di arrestare l'avanzata prima zarista poi prussiana verso l'oceano indiano e questo era una delle definizioni di Medio Oriente già sempre propria britannica tra le due guerre ma la dottrina Eisenhower definisce nel 57 un altro tipo di Medio Oriente perché dal punto di vista americano di quell'epoca aveva un'altra configurazione questa è una carta dei primi anni 70 rappresenta una visione sovietica del Medio Oriente anche qui i confini che sono disegnati e che contengono la parte in grigio sono dei confini diversi da quelli delle definizioni precedenti e questo invece è il grande Medio Oriente di cui abbiamo tanto raccontato anche sull'IMES con la seconda amministrazione americana di George Bush e abbiamo dall'Atlantico non soltanto dall'Atlantico al Golfo come si dice per quanto riguarda il mondo arbo ma abbiamo dall'Atlantico all'Oceano Indiano in particolare con il verde più chiaro abbiamo l'Asia centrale serviva in quel momento parlare di grande Medio Oriente con questa configurazione facciamo un esercizio che sull'IMES ho avuto la fortuna di fare spesso sin dall'inizio da quando nel 2001 ho scritto il mio primo articolo metterci nella posizione dell'altro perché se non capiamo l'altro possiamo fare mille analisi ma rimarremo sempre prigionieri delle nostre categorie alla fine non spieghiamo che per quanto riguarda il mio lavoro di giornalista è l'essenza questa è una mappa occidentale in una lingua occidentale che racconta la storia dell'espansione arabo-musulmana che nel nostro Medioevo le categorie sono nostre l'oro non era ovviamente il Medioevo era l'età dell'oro che riguarda un'area che forse assomiglia molto al grande Medio Oriente disegnato a Bush questa è una carta invece in arabo anche molto dozzinale mi scuso con Laura che è qui ma racconta una divisione fra Oriente e Occidente all'interno del mondo arabo Oriente e Occidente visti da chi? certo non da noi la linea che divide la Libia dall'Egitto è l'IMES che secondo l'altra parte del Mediterraneo che sono i nostri vicini divide il Mashrek dal Maghreb arriviamo all'oggi facciamo una brevissima immersione in quello che forse vi aspettavate un'analisi di dove sta andando la guerra siriana in particolare mi riallaccio ad alcune sollecitazioni che Marco Carnelos e Marco Ansaldo hanno già dato abbiamo un'influenza iraniana dal Mediterraneo all'alto piano iranico ho segnato lo Yemen come uno dei luoghi dove l'Iran più o meno cerca di avere un ruolo abbiamo un'influenza saudita e una presenza saudita che dal punto di vista saudita perché qui in Italia c'è il partito anti Erdogan c'è il partito anti Saudita ognuno ha i suoi partiti però appunto proviamo a fare un po' gli avvocati del diavolo dal punto di vista saudita c'è un accerchiamento iraniano qui nessuno difende quello o quell'altro attore ma la politica di Mohammed Ben Salman il principe ereditario saudita che si appresta a diventare il futuro re saudita il più giovane monarca della regione è una politica che va compresa non può essere etichettata soltanto come appunto una politica muscolare aggressiva e repressiva sfido chiunque a trovare un leader della regione che non reprime i diritti dei suoi sudditi ma dal punto di vista saudita c'è un accerchiamento e la crisi col Qatar che avete raccontato poco fa secondo Riad fa parte di quell'accerchiamento ma abbiamo un'evidente influenza preponderante russa nel Mediterraneo orientale e con le sue alleanze con Israele con l'Arabia Saudita con l'Iran con la Turchia nella presenza militare diretta in Siria il ruolo anche diplomatico politico positivo dal punto di vista di Mosca nella questione irachena non può non avere oggi un ruolo assolutamente da protagonista che contrasta invece con il tentativo ne abbiamo sentito parlare tanto in questi giorni degli Stati Uniti che comunque hanno un piede tramite l'alleanza atlantica nell'Anatolia e che strategicamente eredi dell'impero britannico guardano non tanto alla Siria al Mediterraneo ma guardano a est il mare di riferimento è il golfo che porta poi all'oceano indiano dove poi tra l'altro è la quinta flotta se non sbaglio oggi ne parlavate e questo anche per far capire l'orientamento di quanto la Russia guarda la Siria per il Mediterraneo orientale gli Stati Uniti guardano la Siria orientale perché è l'appoggio sull'Iraq che è il vero fuoco strategico degli Stati Uniti per una esigenza strategica secolare ci sono delle linee di tensione anche qui Laura mi perdonerà per questi scarabocchi che ho fatto ma non ho avuto tempo di coinvolgerti delle linee di tensione dove queste sfere si incontrano ma non ci sono soltanto tensioni e non possiamo ridurre il tutto ovviamente a una questione confessionale Sunniti contro Sciti l'elemento confessionale è uno degli elementi ne abbiamo parlato tanto oggi nella mostra ma non è soltanto quello le convergenze di interesse ci sono anche tra Hamas e Teheran ma come Hamas fratelli musulmani sono Sunniti perché la Turchia non è alleata di Hamas così come l'Uel Iran ci saltano un po' le categorie se pensiamo di ridurre tutto a Sunniti Sciti si parlava di convergenze interesse variabili l'esempio è uno dei tanti si è citata l'alleanza fra la Turchia e le Qatar l'appartenenza o il sostegno alla fratellanza musulmana internazionale di Doha e di Ankara è un elemento che è da collante va ricordato questo questo è un così un diagramma che può sembrare complesso complicato una forma di spaghetti per chi lo legge da lontano ma se noi seguissimo le linee troveremo che sono più o meno accurate la realtà è più complessa di una lettura confessionalista della questione medio orientale ci sono tanti poi altri diagrammi che non vi sto adesso qui a illustrare che raccontano ognuno una lettura estremamente complessa ma anche che prende di vista soltanto le tensioni le alleanze di attori regionali e internazionali torniamo un po' alla storia al nostro mediterraneo quando ancora il medio oriente non esisteva come categoria questa è una mappa del dodicesimo secolo del nostro meduevo disegnata però in arabo da un geografo che definire arabo è riduttivo Alidrisi Alidrisi produce una serie di mappe all'interno di un lavoro che gli viene commissionato da un monarca normanno di Sicilia Ruggero che oggi forse definiremo occidentale perché i normanni forse vengono inseriti nei manuali di storia d'occidente e vengono studiati meno nei manuali di storia del mondo arabo ma forse è una lettura anche questa un po' troppo tagliata con l'accetta orientalistica possiamo definire Idrisi e Ruggero uno orientale l'altro occidentale assolutamente no la lingua di allora in quel contesto la lingua della cultura in quel contesto di Alidrisi era l'arabo e se rigiriamo la mappa che qui è orientata nella sua versione originale con il sud in alto se rigiriamo la mappa incominciamo a riconoscere dei tratti del Medio Oriente ma del Mediterraneo ovviamente il committente era basato in Sicilia la Sicilia è particolarmente ha delle dimensioni abnormi anche qui vedete la politica come si disegnano i confini a seconda della committenza ognuno vede il Medio Oriente a seconda di come gli fa comodo le mappe iniziali anche qui Ruggero vedeva una Sicilia che è grande quanto l'Abruzzo e la Lombardia messi insieme ma quello che mi interessa è far notare che le iscrizioni che qui sono in arabo e sono molto piccole se si va nel dettaglio nelle altre tabule di Idrisi si notano tutta una serie di elementi di comunanza di queste regioni elementi di continuità socio-economica che abbiamo evocato in questi giorni parlando di globalizzazione di legami e non soltanto di tensioni di guerre di popoli e di leader che si fanno la guerra di sangue di bombe sentivo parlare di polveriera il Medio Oriente Beirut quante volte se scrivo Beirut nell'archivio dell'ANSA trovo numerose dichiarazioni di politici italiani che parlano di depressione di violenza di disagio citando Beirut perché nell'immaginario specie per chi si è formato negli anni 70-80 Beirut era il simbolo del caos è divertente fare un piccolo libretto su come Beirut viene evocata senza parlare di Beirut ma soltanto per dire le autobombe quando io dico che sono in Medio Oriente la gente pensa che io sono un luogo dove ci si ammazza ogni giorno ecco non è così forse la guerra in Medio Oriente non c'è come soltanto la pensiamo non è un luogo di morte di violenza costante e totale per esempio a proposito di storia 70 anni sono pochi rispetto a 400 anni di un governo imperiale oggi si parlava della differenza fra imperialismo e imperiale oggi si parla anche sempre di legittimare certa politica di Ancara di neo-ottomanesimo anche qui gli storici forse possono avere dei pruriti anche io li ho perché è un po' troppo semplice io credo che Erdogan abbia poco a che fare con l'ottomanesimo ma con tutto il rispetto per la storia ottomana hanno dato la possibilità a una regione e non gli ottomani come leadership ma gli ottomani le elite locali le stesse potenze che erano alleate e poi rivali degli ottomani perché la storia è un processo di molti attori non possiamo attribuire agli ottomani dei meriti o dei difetti io vengo dal Libano dove la storiografia parla degli ottomani come degli occupanti perché effettivamente gli ultimi anni dell'impero ottomano sono stati degli anni bui scuri di oscuri di violazioni di turchizzazione il tatric perché conosce l'arabo di impiccagioni di insurrezioni di gente che aveva tentato l'insurrezione ma non possiamo pensare che gli ultimi dieci anni dell'impero ottomano siano soltanto quelli che i 400 anni di Pax ottomana Pax anche ovviamente col sangue con la baionetta o con altri tipi di armi siano stati così oscuri questa è una regione della Siria e del Libano in parte del Medio Oriente durante l'epoca ottomana ed è una carta ottomana che raccoglie tra l'altro in turco ottomano Anatolia è un'altra carta ottomana e la divisione amministrativa all'interno di un impero che fino al 1918 non ha vissuto quelle guerre di cui poi noi parliamo forse possiamo anche discutere se far cominciare la nostra cronologia della guerra del Medio Oriente nel 1948 che è la prima guerra arabo-israeliana oppure no davvero qui uno si può sbizzardire e la verità nessuno la può avere in tasca credo ma a proposito di periodo ottomano nella regione da cui provengo quindi mondo arabo questa è una carta di uno storico francese che nel 1920 fa un viaggio e si mette a raccontare e a descrivere a cartografare tutti i collegamenti viari infrastrutturali delle varie città della regione che oggi è Libano e della Siria all'epoca erano varie regioni amministrative che non si chiamavano né Libano né Siria a un certo punto sono diventate anche Libano e Siria ma sono delle categorie moderne e poi contemporanee ho evidenziato la continuità delle città della costa abbiamo Acri che oggi è in Israele con Tiro ma anche con Tripoli e possiamo salire e arrivare fino alla Siria oggi ci sono dei confini fra queste regioni la costa contrapposta all'interno la valle della Beccà la continuità storica fra la Beccà libanese e la Galilea e le grandi città della Siria interna Damasco e Homs l'antica Emesa questa è una carta fatta dai nostri da un occidentale da un francese poi i confini nazionali quelli che noi oggi consideriamo intoccabili ma hanno soltanto un secolo cos'è la sua 100 anni? è una storia molto recente questa questa invece è una carta amministrativa ottomana di come il Libano era diviso amministrativamente durante gli ottomani e riconosciamo qui delle analogie con la carta amministrativa libanese con la divisione amministrativa libanese di oggi nello Stato nazionale del Libano questa è una carta siriana una Siria che non esiste perché c'è Iskandarun la provincia turca di Hatay annessa dai turchi nel 1939 un regalo francese e il Golan controllato a Israele ma è una narrativa le carte sono uno strumento politico secondo il governo siriano la Siria questa dovrebbe essere questa è la Siria che invece nasce nel 1946 in seguito a una serie di processi anche legati alla colonizzazione francese e alla fine della prima guerra mondiale l'accenno a Sykes-Picot la spartizione in zone di influenza e di controllo tra britannici e francesi anche qui nel 1916 si è ricordato due anni fa il centenario di questo accordo e questa ho usato una carta con dei confini internazionali estremamente spessi proprio da mettere in risalto i confini che sono ripeto dei confini recenti e che forse sono parte della causa dei conflitti delle guerre che viviamo anche oggi perché non hanno tenuto conto di una serie di continuità socio-economiche comunitarie di interessi fra popolazioni che poi si sono trovate divise e che non hanno più avuto accesso a delle risorse che prima avevano per secoli avevano costituito una certa stabilità le narrative che non hanno trovato legittimità questa è una mappa del Kurdistan che non esiste ma esiste per molti altri appunto si sta almeno ideologico si parlava appunto dei kurdi come coloro che pagheranno il prezzo forse bisognerebbe dire il PKK siriano le comunità kurde di Siria a ovest delle Ofrate pagheranno un certo prezzo quelle a est delle Ofrate sono dei grandi vincitori per adesso per quanto riguarda la Siria non vedo un futuro piuttosto rosio per loro l'accordo è che la Turchia non va a est delle Ofrate e Mambic non era kurda quindi direi che per i kurdi è un risultato più che ottimo e i kurdi quali kurdi perché se no qui facciamo confusione il PKK siriano che oggi è egemone nella regione nord-est della Siria ma non è l'unica forza kurda e non sono gli unici kurdi perché la Turchia va d'accordissimo con i kurdi di Erbil anche qui se no rischiamo di fare un po' troppo ideologia la causa kurda è una cosa e la lasciamo agli attivisti ma noi che facciamo giornalismo forse dobbiamo ricordare che Erbil è uno degli alleati il governo di Barzani è uno degli alleati strategici di Ancara anche rispetto a Erdogan un'altra narrativa che non ha trovato il posto nella storia almeno fino adesso è la narrativa alla rivendicazione dei diritti palestinesi non esiste questa rappresentazione geografica come non esiste l'Armenia un'altra delle narrative che in qualche modo non hanno trovato spazio almeno fino ad ora poi potremmo essere smentiti tra 200 anni noi siamo soltanto figli dell'attualità non possiamo misurare con il nostro piccolo metro di una vita che in fondo dura poco rispetto alla storia è un'altra narrativa che ha provato a tentare la via della legittimità ma non ci è riuscita mi ricordo un'altra bella carta di Limes proprio in cui cercavano di raccontare come lo Stato Islamico si proponeva di essere anche qui quanto la propaganda ma anche le altre pure sono propaganda hanno comunque un forte elemento di propaganda questo ovviamente è più recente è più facile per noi destrutturarlo gli altri hanno delle implicazioni politiche che ci rischiano di mettere in un ginepraio ideologico anche molto poco legato al Medio Oriente la Siria così colorata divisa in territori i kurdi gialli i governativi russi i regnani rossi quello che rimane delle forze antigovernative sempre più sconfitte e ormai sotto il controllo della Turchia a nord e della Giordania a sud ma non è l'unica volta che la Siria è stata raccontata sotto forma di colori questa è una Siria francese degli anni 50 in cui si racconta come le varie comunità della Siria e del Libano convivevano o convivono ancora oggi l'ho scelta perché mi ricorda questa Siria colorata che spesso raccontiamo per descrivere i conflitti ma questa non è una carta di un conflitto eppure parla di un'epoca in cui in teoria i conflitti già erano in corso in Medio Oriente e allora prendo l'ultima carta e qui ho concluso è un'altra carta se vogliamo turistica del patrimonio della Siria del nord abbiamo l'est delle Ofrate Racca abbiamo Aleppo abbiamo la Costa abbiamo Iskanderun Atai Alexandretta chiamatelo come volete abbiamo Hama abbiamo anche delle parti a nord di Palmira sono raccontati qui in arabo e in francese quindi diciamo è una carta che vuole essere per entrambe le sponde le ricchezze socio-economiche i legami culturali e i legami anche di capitale umano delle varie regioni che in questo caso sono siriane questa è una carta che non è molto molto antica è una carta anche questa degli anni 50-60 che ci ricorda che tra queste comunità che vengono descritte in un complesso di continua guerra in cui la gente non fa altro che uccidersi e ammazzarsi esistono dei legami che tutt'oggi mentre parlo la gente continua a commerciare continua a vendere anche i signori della guerra hanno trovato il modo di aggirare gli assedi e di fare affari ISIS compreso kurdi compreso Turchia governativi iraniani e tutti gli attori che sono oggi sul territorio vivono in un contesto assai più stratificato e sono anche loro un prodotto di un processo storico che è molto più grande del nostro e qui Idrisi in qualche modo io lo terrei sempre vicino perché ci dà una sorta di di viatico per ricordarci che il Medio Oriente e il Mediterraneo sono anche una lezione di partecipazione di convivenza e non soltanto di scontro grazie ringrazio ringrazio Lorenzo Trombetta e mi sono vivamente grato perché con questa brillante sovrapposizione di mappe ci ha aiutato a capire in un modo ancora più diretto quanti interessi vi siano su questa parte del mondo se io all'inizio avevo mostrato una piccola mappa in cui si vedeva il Medio Oriente stretto tra queste due grandi macro regioni di consumatori di energia Lorenzo con questa carrellata stupenda di mappe ha avuto come dire è andato oltre sovrapponendo in quella piccola regione tutta una serie di interessi di eredità storiche culturali religiose eccetera che ci aiutano ancora meglio a capire quanto quel fazzoletto di terra sia conteso e ognuno ne tragga le proprie conclusioni capire voglio dire perché in quella zona le guerre non finiscono mai noi abbiamo messo molta carne al fuoco non me ne vogliono i vegetariani e abbiamo dato tantissimi spunti e credo che in ragione della sua esperienza politica pregressa in ragione della sua anche come viceministro degli esteri in ragione della sua attuale titolarità di una vicepresidenza dell'ENIA più grande compagnia energetica italiana è la persona che credo che possa meglio di ogni altro tirare le fila di questo discorso e offrirci una sintesi ragionata di quello di cui noi abbiamo discusso oggi darci auspicabilmente un possibile tracciato una prospettiva ho avuto il privilegio di lavorare con l'Apo Pistelli per anni l'ho sognato come ministro degli esteri e a lui do la parola per chiudere questo panel grazie con queste parole mi ha rovinato fin dal principio chiaramente quindi io chiedo scuse e dissento da tutto quello che Marco ha detto nella sua introduzione io invece desidero ringraziare moltissimo l'IMES e Lucio Caracciolo in particolar modo perché questo appuntamento è un appuntamento straordinario e in generale la formula dei festival è diventata straordinaria perché aggrega una comunità di interessi di gente come voi oggi qui che immagino abbia l'ambizione questa è la sfida per noi di uscire da una sala capendo qualcosa di più di temi complessi quindi un valore che al tempo stesso divulgativo informativo analitico ringrazio gli organizzatori perché potevano farci una domanda molto più complicata che è come fare a far finire le guerre in Medio Oriente invece si è iniziato a dire perché non finiscono mai che quindi è un pezzo di interpretazione per certi aspetti un pochino più semplice che mi è resa se è possibile dire ancora più semplice perché i contributi dei due marchi e di Lorenzo sono stati veramente molto ricchi non so se addirittura troppo ricchi per tutti noi ad ascoltarli nel senso che hanno aggiunto tante di quelle informazioni che adesso fare sintesi diventa un'impresa se sintesi si può fare quasi disperata non ci siamo sentiti con Lorenzo Lorenzo mi ha fregato positivamente a tre o quattro punti che volevo sviluppare e quindi a questo punto citerò e mi agevolano in modo molto rapido la prima questione io vorrei che noi ci liberassimo da e credo che i contributi vanno tutti in questa direzione ci liberassimo da una facilissima via d'uscita che è quella della battuta di Benigni cioè noi dall'alto della nostra civiltà pace sempiterna e compagnia ci possiamo permettere la battuta il mio concittadino di dire lui si riferiva soprattutto a Israele e Palestina ma è che c'è tutto Benigni 1985 e noi fieri delle nostre due generazioni di pace in Europa guardare orientalisticamente le aree che ci circondano come delle aree più o meno incivili irredimibili a una democrazia irredimibili a uno stato di diritto e quindi nella nostra nel nostro comodo diciamo così nido esprimere un giudizio salvo il fatto che se noi ci approcciamo come sull'immigrazione come sull'Asia anche sul Medio Oriente con uno stereotipo abbastanza facile o razzista o religioso non sono adatti intrinsecamente per fare certe cose rinunciamo non soltanto a capire l'80% di quella regione salvo averne appunto un'idea esotica orientalista ma rinunciamo anche a comprendere il grado di responsabilità che noi abbiamo sulle aree vicine diciamo al luogo in cui abitiamo e soprattutto a poterne in qualche modo di identificare delle possibili via d'uscita allora cito rapidamente Lorenzo nelle sue 500 cartine con tre dadi che mi permetterei di tirare fuori da quello che abbiamo visto la prima questa categoria Medio Oriente o nella sua variante vicino Oriente è una categoria diplomatica molto giovane veramente molto giovane 100 anni 120 anni e come lui vi ha fatto vedere molto bene dentro questa etichetta ciascuno un po' mette quello che vuole c'è una versione più restrittiva ci sono versioni che si dilatano coinvolgendo gli importanti vicini regionali di un Medio Oriente stretto penso alla Turchia e altri che lo fanno arrivare sostanzialmente tramite il momento della guerra in Afghanistan fino al Pakistan quindi facendolo diventare molto molto grande quindi categoria mobile duttile che ciascuno interpreta secondo l'esigenza che ha di un'area che quindi evoca essendo una categoria molto duttile una sorta di scatola sorpresa se io avessi fatto un dibattito al tempo di Benigni negli anni 80 intitolato Medio Oriente in una scuola anzi quando ero a scuola automaticamente il ventenne dell'epoca avrebbe detto Medio Oriente vuol dire Israele e Palestina quello era il Medio Oriente non c'era altro se l'avessimo fatto nel 2001 avremmo cominciato a parlare di Medio Oriente andavamo automaticamente o in Afghanistan o in Iraq nel 2010 saremo andati alle conseguenze della cosiddetta primavera araba magari dimenticando perché allargare questo concetto un po' troppo sarebbe esagerato prendendo l'Egitto dimenticando la Tunisia o la Libia ma prendendo l'Egitto ma poi guardando ciò che è successo nel Bahrain in Qatar nello Yemen più recentemente o in modo più antico il Libano sarebbe entrato e uscito da questo tipo di mappa e quindi Medio Oriente è una scatola sorpresa visto che in dieci minuti residui io la scatola sorpresa non la posso sviluppare in tutte le direzioni vi do qualche chiave secondo me aggiuntiva oltre che di sintesi rispetto a quello che lui ha detto è un'area giovane non è soltanto una categoria una categoria giovane è un'area giovane allora dato che qui in platea ci sono persone informate e anche persone diciamo mature di età tutti noi più o meno pensiamo di sapere a scuola come sono nati paesi europei ce l'hanno ammaniti dalle scuole elementari in poi e sappiamo il processo faticosissimo secolare di formazione degli stati nazionali europei confini guerre spostamenti eccetera ma se noi ci muoviamo fuori da questa area che pensiamo di conoscere e la cui drammaticità ci sembra naturale esattamente perché ci abitiamo dentro e ci muoviamo o nell'Africa di cui si è parlato con Claudio Descalzi alle tre e mezzo o del Medio Oriente noi troviamo un'area relativamente giovane in cui confini e influenze sono state disegnate nell'arco di quattro generazioni non molto di più fatemi fare un cammeo di 12 secondi sull'Africa al di là di alcuni confini l'Africa impressiona tantissimo talvolta anche la fantasia degli studenti che abbiano un minimo di passione per queste cose perché è l'unico area di mondo in cui ci sono i confini fatti con Righello con le perpendicolari con il congresso di Berlino hai mai visto un continente tracciato con le perpendicolari ma sì che vuoi che siano sono africani se è fatto così a Berlino abbiano tirato le perpendicolari poi dibattendo per decenni se magari queste perpendicolari avevano tagliato a metà tribù ne avevano sommate persone che non volevano stare insieme ma troppo distanti da noi per applicarci con un minimo di metodo diverso è il caso del Medio Oriente nel Medio Oriente in realtà troppe mani hanno tracciato confini e troppe mani si sono interessate di quest'area ma insomma rimaniamo su un Medio Oriente stretto del Golfo nel Golfo più o meno anche se alcune famiglie che oggi reggono quegli stati sono famiglie antiche i Saud in Arabia Saudita unico paese al mondo che prende il nome del paese della famiglia che regna Arabia Saudita per questo ha poco più di un secolo di vita i paesi che oggi sono on the spot perché sono mecca del turismo le Archistar il lusso gli Emirati il Qatar sono paesi che arrivano alla loro indipendenza ai primi degli anni 70 ieri l'altro ieri l'altro l'Oman con ancora interferenze inglesi negli anni 70 nei tentativi di ribellione lo Yemen non esisteva nella forma attuale fino a 25 anni fa 30 anni fa è stato diviso in due ha avuto una guerra civile si è riunificato il paese tradizionale con l'indipendenza più lunga se non sbaglio del 61 è il Kuwait 61 sono nato nel 64 cioè allora di che parliamo parliamo di confini assolutamente giovani assolutamente giovani e parliamo di confini giovani che sono figli di alcune grandi stagioni la dissoluzione dell'impero ottomano che Lorenzo ha abbondantemente richiamato che invece ha unificato gran parte di questi territori per molto tempo e gli esercizi diplomatici che si sono diciamo intrecciati in quest'area appunto cento anni fa Saix-Picot trattato di Lausanna siamo fra gli anni 10 e gli anni 20 del secolo appena passato uno degli esercizi che diciamo in una vita precedente mi capitava di fare con i colleghi di Marco i diplomatici era dire facciamo un'attività predittiva ma secondo voi fra 70 anni quanti di questi confini saranno ancora quelli che ci sono oggi perché con la sola eccezione di civiltà radicate in modo millenario penso all'Egitto molti di altri molti di questi altri paesi sono effettivamente esperimenti estremamente giovani e con questo tipo di cautela dobbiamo avvicinarci secondo punto terzo punto in una delle cartine ma non c'è bisogno di farla rivedere si nota bene ma una l'ha fatta vedere anche Marco Cagnello sull'introduzione il luogo fatemi dire baricentrico che la piattaforma del Golfo ha nei confronti dell'Europa e dell'Asia beh intendiamoci per lungo tempo al tempo dell'impero britannico il ruolo della piattaforma del Golfo era esattamente la piattaforma logistica per le navi inglesi che andavano e venivano per andare fino all'Oriente che interessava al tempo l'India e dintorni ma se ci pensate oggi il Golfo è il tormento protagonista per la stessa identica funzione ma per il flusso inverso è oggi la piattaforma logistica principale attraverso il quale le merci asiatiche prodotte dai cinesi e dai grandi tigri arrivano al mercato europeo e non solo al mercato europeo perché qui però manca in questa cartina il Medio Oriente ha una piccola cerniera fondamentale per capire ancora una volta un altro continente cioè l'Africa attraverso cui il Golfo entra in Africa attraverso l'Etiopia l'Eritrea il Sudan e questo vi spiega se ci sarà un dibattito se c'è stato anche perché uno dei nuovi temi geopolitici da guardare è la islamizzazione dell'Africa cioè come attraverso il Golfo in questo punto di cerniera si entra in un mercato ricchissimo di materie prime molto turbolento con una demografia impetuosa ma che è di grande interesse per le grandi monarchie sunnite diciamo dell'area del Golfo quindi è baricentrico ma in qualche modo in una direzione inversa e non è un caso qui siamo a Genova abbiamo diciamo felicemente condotto in porto l'Expo di Milano due anni fa legato al cibo il prossimo Expo è a Dubai e il tema fondamentale dell'Expo di Dubai 2020 è connecting the minds e connecting the world è la connessione che poi non sia soltanto connessione infrastrutturale ma anche connessione e attrazione di talenti e questo è un altro paio di maniche ma non è un caso che quella sia oggi una delle principali vocazioni dell'intera regione e insomma però a stare a contatto fra un pezzo di Africa connettersi con l'Asia essere lo snodo con l'Europa è chiaro che non sono tutte rose e fiori arrivano molti interessi e dunque una delle altre caratteristiche che spiegano perché le guerre non finiscono mai per certi aspetti ed è stato già spiegato ma io vorrei in qualche modo risottolinearlo è che a differenza di molte altre aree o non di tutte ma di molte altre il Medio Oriente è un piatto nel quale tutti negli ultimi 50 anni hanno in qualche modo provato a insuppare il pane per la ricchezza di risorse e per la strategicità geopolitica che questa aveva con la differenza che mentre per molto tempo questa influenza è stata non dico semplice ma più facilmente spiegabile un'area anglo-francese e un'area anglo-francese tendenzialmente della parte che segue di più Lorenzo Libano e Siria un'area inglese che poi diventa anglo-americana e poi molto americana che è l'area del Golfo quando devo dire anche per ragioni energetiche in questo caso gli inglesi lo facevano perché avevano le loro basi commerciali per andare verso Oriente quando gli americani e poi anche gli inglesi decidono che anche la propria diciamo flotta invece di andare a carbone decide di andare a petrolio allora a quel punto avere come dire la fonte la risorsa che serviva per alimentare l'imponente macchina militare anglo-americana è diventata fondamentale tendenzialmente c'è stata poca Russia poca Unione Sovietica prima e poca Russia uno degli elementi di novità di oggi è che a causa del ritiro fra il tattico e lo strategico che entrambe le ultime due amministrazioni americane hanno praticato sia quella Obama che quella Trump il potere non tollera vuoti e qualcun altro sta entrando occupa i vuoti che gli altri lasciano così come è vero che in forma molto più sobria ma non necessariamente meno importante anche la Cina in questo suo enorme gigantesco unico strategico disegno che esiste al mondo cioè questo della One Belt One Road sta arrivando di gran carriera per ora insomma sono partiti hanno un po' di strada da fare ma stanno arrivando perché i punti di arrivo di questa grande catena che porta infrastrutture strade banche dati energia e tutto ciò che collega e connette l'impero celeste all'occidente passerà e arriverà anche lì quindi tutti ci hanno messo in qualche modo le mani ma se mi permettete di aggiungere qualche cosa io oltre a questo disegno vorrei darvi due altre tre chiavi di lettura da tenere di conto il primo io penso che una delle ragioni per cui diciamo così torno al titolo le guerre non finiscono mai è perché da diversi anni ma in modo particolare negli ultimi 10-15 questi paesi hanno stanno affrontando una riflessione la chiamo riflessione come se fosse teorico-intellettuale ma in realtà è molto politico-pratica che hanno riflessione sul loro modello su che modello di paese sono nel senso che nella storia del Medio Oriente noi abbiamo visto una tensione che ha creato grandi rivalità dentro il mondo arabo che era la ricerca del leader del mondo arabo in nome di un concetto che è molto caro diciamo nella cultura islamica della umma della unità che è poi l'unità della mia famiglia poi della mia tribù in una sorta di versione estesa di unità il mondo arabo ha conosciuto per varie decadi nel dopoguerra una leadership per chi lo guidava chi guidava il mondo arabo e ha cercato nel corso del tempo dei leader capaci di incarnare sotto forma nazionalista la capacità di rappresentare qualcosa di più del proprio paese ma essere un modello di riferimento per l'intero mondo arabo queste versioni nazionaliste hanno avuto poi anche delle colorazioni politiche molto più marcate che oggi ormai stanno esaurendosi il Baat ad esempio in Iraq come in Siria dei modelli politici a partito unico di fatto con una caratteristica che oggi non c'è più modelli secolari l'Iraq di Saddam non era la Svizzera un luogo dove si gasavano i kurdi e si sterminavano gli oppositori comunisti ma è un luogo nel quale quell'Iraq lì nessuno ha mai avuto problemi di avere un cristiano caldeo vicepresidente o avere ebrei che partecipavano alla vita politica e ugualmente la Siria di Assad per certi aspetti quel modello sta evaporando è un modello che è evaporato non c'è più un modello secolare di guida di questi paesi e questo modello di Stato oggi è sfidato da caratteristiche della modernità che ne mettono oggettivamente a rischio la sopravvivenza non sono più modelli che possono essere governati dall'alto verso il basso perché una volta bastava avere la tv di Stato e due carri armati e la società civile stava ferma oggi con gli smartphone e la rete non ve la devo stare a magnificare l'abbiamo visto dal 2011 in poi c'è una vitalità che difficilmente questi paesi riescono a contenere noi siamo abituati a modelli che vivono sulla patto di non è che piaccia a tutti non dico di no ma su un patto di cittadinanza che ad esempio si esercita nell'Occidente attraverso il fisco e che trae origine dal motto della rivoluzione americana no taxation without representation pago le tasse dunque mi esprimo su chi mi rappresenta e sulle scelte politiche che devo fare nelle monarchie sunnite del golfo non c'è sostanzialmente tassazione e quel modello è rovesciato diventando no taxation therefore no representation non paghi le tasse non rompere le scatole ci pensiamo noi ma questo alla lunga rende come dire una domanda di spazio di partecipazione di democrazia delle donne o non delle donne difficilmente comprimibile allora queste monarchie questi paesi hanno al di là delle guerre che vediamo sulla cronaca un tema di identità cioè se questo modello statuale è reggibile sostenibile nel lungo periodo e quello a cui assistiamo che è una parte per me positiva molto interessante non so quale sarà l'esito è ad esempio vedere come in un sistema che è stato tendenzialmente molto conservativo e gerontocratico stanno salendo nel golfo una generazione di nuovi regnanti nuovi emiri nuovi sceicchi è il caso di Mohammed bin Salman è il caso del nuovo emiro del Qatar è il caso della generazione che si affaccia negli Emirati che sono tentati di aprire la società rispondendo a esigenze di modernizzazione ma tenendo il controllo sul paese allora questo tipo di dibattito per me è un dibattito di fondo non si snocciola dentro la guerra di oggi o di domani dice qualcosa della identità di cosa sarà questo mondo questo mondo e aggiungo l'altro elemento con cui questi paesi devono fare i conti e che purtroppo negli ultimi anni ha segnato molti punti di arresto è il rapporto culturale prima ancora che geopolitico tra la categoria a noi cara e tradizionale la democrazia e la partenenza religiosa cioè il rapporto fra democrazia e islam perché per il lungo tempo come ho esemplificato col Baatto con i nazionalismi sì eri musulmano ma poi alla fine il tendenzialmente del tuo paese quindi la componente religiosa non pesava come non ha pesato in tanti paesi dell'Europa avere una fede religiosa sulla propria diciamo così scelta politica ma gli unici due tentativi che ci sono stati più recenti negli ultimi 15 anni molto diversi fra di loro sono stati il tentativo della fratellanza musulmana di dare forma politica tramite processo elettorale a un'identità religiosa con esiti molto diciamo controversi in Tunisia con un esperimento di governo fallito e NADA che però poi ha portato quel partito a dialogare con partiti laici in Egitto in un modo totalmente diverso la fratellanza musulmana vince con Mohamed Morsi e dopo due anni c'è un processo esattamente contro rivoluzionario che chiude quella fase il Qatar è messo oggi sul banco degli imputati perché perché accarezza aiuta non a casa propria mai ma a casa degli altri esperimenti e relazioni con la fratellanza musulmana ma la domanda di fondo non è quella di allineare le pedine il Qatar sta con chi oggi o domani è perché c'è questa forma di competizione cioè quanto nel lungo periodo nel medio periodo essere musulmani vivere nel ventunesimo secolo può diventare conciliabile con un modello politico in cui la mia vocazione religiosa la mia idea religiosa si coniuga in categorie politiche noi questa roba l'abbiamo già fatta e se mi permettete era citato in un pezzo recente di Marco Carnelo sapete quando l'abbiamo fatta? Abbiamo fatto la guerra dei trent'anni nel 1600 al 1618 al 1648 che inizia come una guerra più o meno di religione per motivi elettorali dell'imperatore poi diventa una guerra che attraversa tutta l'Europa spostandoci dalla Scandinavia all'Europa meridionale lasciando intoccate soltanto la Gran Bretagna e la Russia e finisce con una separazione concettuale che noi abbiamo nel nostro codice genetico senza saperlo cioè la separazione tra sfera temporale e sfera spirituale date a Cesare e a Dio quel che è di Dio ma è una guerra che dura trent'anni in cui nascono paesi nuovi ne spariscono di altri cioè cambia la carta geografica di Europa questo tipo di battaglia culturale o di guerra dei trent'anni il rapporto fra la politica e la mia appartenenza religiosa il mondo islamico non l'ha mai fatta perché è stata per 400 anni sotto 500 anni sotto l'impero ottomano e poi è passata da fasi coloniali e poi dalle fasi che ho descritto quindi io credo che ci sia una trama di lungo periodo che oggi ha vari focolai quella ma che ha a che fare su come questa identità nel tempo moderno si può declinare in forme eventualmente democratiche ultimo ma non ultimo sì perché il tempo è già strafinito pochi minuti due minuti per due conclusioni è interessante vedere interessante purtroppo se non ci fosse carne, sangue, morti e vita e vita la Siria che Lorenzo Trombetta conosce molto bene perché quando volete come dire un perfetto test di laboratorio di cosa vuol dire una carta geografica disegnata nei modi che abbiamo visto la convivenza di culture etnie declinazioni religiose le più diverse e tanti cuochi in cucina la Siria degli ultimi sette anni che nasce come una primavera araba anomala non prevista da Assad diventa per qualche anno una sorta di guerra di Spagna in Medio Oriente in cui ogni campo ha le proprie milizie straniere occidentali medio orientali i propri consiglieri militari a combattere ciascuno la sua guerra su più faglie poi vede un momento di straordinaria unità dopo che Daesh impone un pezzo di Stato Islamico e dunque tutti d'accordo europei americani russi a eliminare la minaccia di Daesh oggi più o meno eliminato o confinato la minaccia di Daesh ciascuno per conto suo perché ciascuno ha in mente una Siria diversa la Russia ha in mente il mantenimento di Damasco e il corridoio Vex del Mediterraneo molte monarchie sunnite del Golfo non sanno più chi sostenerà perché hanno perso i propri gruppi sul campo i kurdi rivendicano il loro pezzo di territorio ormai autogovernato e quindi un esercizio con tanti cuochi in cucina che diventa la cartina di tornasole di cosa vuol dire essere un paese complesso a confini variabili con molte identità diverse e tanti attori esterni che se ne vogliono occupare purtroppo l'esperimento drammatico più fallito un occhio al calendario non al calendario alle cartografie o alle cronologie al calendario prossimo e con questo vi ringrazio e vi saluto nei prossimi 12 giorni 15 giorni noi abbiamo una di questi campionati che si giocano su quattro appuntamenti il primo è domani sono elezioni in Libano elezioni importanti perché non si vota da otto anni se non ricordo male perché il Parlamento è stato di sospensione e dove non c'è un tema di in questo caso definizione religiosa nel senso che lì per legge la metà dei parlamentari sono cristiani e la metà sono musulmani ma all'interno di due campi i rapporti di forza fra sunniti sciiti diversi partiti sciiti e diversi partiti sunniti dicono qualche cosa di un equilibrio di potere abbiamo la settimana dopo le elezioni in Iraq dove alla Badi si gioca anche in questo caso un tema di rafforzamento permanenza del potere in un altro paese in cui c'è io Lorenzo penso abbia un certo rilievo non tutto il rilievo ma un certo rilievo l'arco di contrapposizione sciiti sunniti che c'è che ci sarà anche in Iraq il 12 di maggio se non sbaglio Trump dovrà decidere cosa fare dopo l'ultimo periodo che si è preso rispetto al JCPOA cioè all'accordo nucleare iraniano se denunciarlo rinviare di qualche altro mese la decisione chiedendo agli europei di avere sanzioni aggiuntive e anche su questo c'è appunto l'arco di tensione degli sciiti nella regione e poi due giorni dopo nel settantesimo anniversario della nascita dello Stato di Israele vediamo se verrà annunciato in modo sostanzioso e formale il trasferimento della capitale dell'ambasciata americana a Gerusalemme entro l'anno con gli effetti che questo può comportare questo è un campionato che non si ferma mai come voi capite ma questi quattro appuntamenti nei prossimi 10 giorni 12 giorni vi dicono come le alleanze si vanno a ridislocare come si muove l'arco dinamico di forze fra scipi e sunniti e come come dire un'area di grande interesse con attori disposti ad alleanze tattiche strategiche molto cangianti ridisporranno le proprie forze in campo l'unica cosa che ripeto e con cui chiudo e che vorrei fosse magari il messaggino che uno si porta a casa non liquidiamo mai queste aree che sono complicate con dei facili luoghi comuni non è mai così in niente nella vita nelle nostre storie personali ma anche neanche nella politica nella geopolitica è un'area molto ricca è un'area baricentrica è un'area mista è un'area in cui troppi hanno interesse e troppi vogliono mettere interessi e fare le linee rette le linee dritte dividere i buoni dai cattivi è operazione difficile ma sicuramente sbagliata e inutile grazie quando venti minuti fa ho dato la parola all'Apo Bistelli ero sicuro che avrebbe operato una cesura eccellente di tutti gli spunti tipo caos creativo dati dai tre precedenti relatori lo ringrazio confermo tutto quello che ho detto su di lui ringrazio l'IMES Lucio Caracciolo per questo brillante successo siamo in un sabato pomeriggio di una giornata prestiva e non solo è piena questa sala è piena anche la sala a fianco e quindi oltre all'IMES il ringraziamento va soprattutto a voi che siete stati presenti così numerosi e così attenti grazie all'IMES grazie a Genova e non perdetevi alle 18.30 il panel la nuova via della seta la contro globalizzazione cinese il gioco si fa duro e i duri entri e cominciano a giocare grazie a Genova grazie a Genova